buongiorno amici scusatemi il fiatone sto facendo una bella camminata intorno al lago di nemi adesso più avanti ve lo farò vedere meglio che si scopre un po di più non faccio il selfie vi faccio vedere soltanto i miei piedi che camminano il fiatone lo sentite anche perché mi sono dimenticata gli occhiali da sole e non sono molto affascinante prima mattina adesso cammino quello raggio mio marito questo è il lago di nemi che sta nei castelli romani vicino anche c'è il lago di castello è la zona vulcanica lassù c'è ginsano gli amici della zona lo conoscono bene molto bello camminare qua si sta immersi nella natura sul lago ci sono scusate non ho fatto in tempo a dire natura era passata una moto bene comunque molto molto bello stamattina un po umido ci vediamo un pochettino più avanti ci facciamo una chiattierata perché si scopre il lago il panorama è molto più bello a dopo eccolo qui già si vede meglio bello molto bello eccolo qua siamo arrivati in fondo vedete ginsano che si rispecchia nel lago allora volevo dirvi volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti che ho visto sul canale youtube stiamo aumentando mi sembra mille tre e quaranta e oltre e volevo dirvi che ho aperto questa pagina pagina facebook perché perché ricevevo tante tante richieste mio marito fa lo stupidino tante richieste di amicizia sul profilo privato che però non posso darvi con tutto il bene che vi voglio a parte qualcuna qualcuna che conosco bene non posso dare approvare tutte queste amicizie perché ho le foto dei nipoti le foto private e quindi ho aperto questa pagina erika erika official dove farò girare un po i video del canale e dove se volete dirmi qualcosa potete farlo mi fermo un attimo perché con il fiadone non riesco a parlare e poi un'altra cosa come sapete il mio canale non è che tratta soltanto pasta madre pane dolci eccetera ma come avete visto ci sono molti video della montagna per montagna io intendo alto adige e valle urina siamo degli appassionati sin dai ragazzi del vittorio adesso purtroppo gli anni passano cammino un pochino gli anni passano anche se non ce la facciamo più a fare le escursioni che facevamo una volta però continuerò a mettere video bellissimi panorami e della valle bene amici sospendo un attimo ci vediamo in fondo perché voglio farvi vedere giù al lago dove ci sono le spiaggette dove l'estate la gente va a prendere il sole ma dopo sono le gallinelle eccole qua vedete quante gallinelle ci sono credo che si chiamino gallinelle non lo so bellissimo questo punto il sole ancora non si vede perché sta dietro dietro una montagna dove sopra c'è nemmi aspettate ve lo faccio vedere ecco la nemmisa lassù ok sentire come cantano giù ce ne sono tantissimo andiamo a vederle amici volevo dirvi che questo vlog i vlog servono anche per servono per per esporre le new io sto preparando ho fatto tutta la settimana i rinfreschi che voglio fare la focaccia veneziana che ha già fatto rosa insieme al gruppo io ero impossibilitata quindi la farò non vi prometto niente mi viene bene ci faccio il video se no niente allora vado un pochino più giù poi vi saluto qui vedo anche un cigno un gabbiano non lo so bello carino bellissimo sentite si sente qualche macchina ogni tanto però vuoi parlare vettorio quanti che belli non so che tipo di papere gallinelle non ve lo so dire poi vado a cercare su internet bello molto bello bene amici cos'è vittorio mi sta indicando la spiaggetta eccoli questi bianchi ok non sono gabbiani no perché sennò volerebbero no 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 il gabbiano c'è tutto ma che bello bellissimi bene amici io vi saluto qui spero che questo vlog vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo ciao ciao un abbraccio un bacio a tutti ciao 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 ciao